Il Vangelo della Domenica Commento a cura di Don Fabio Rosini Diciassettesima Domenica del Tempo Ordinario Ecco, noi ascoltiamo nella prima lettura l'avventura del servo di Eliseo che non capisce come può mettere davanti a tanta gente venti pani d'orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo, il profeta, gli dice Dalli a tutta questa gente e lui dice Ma come posso mettere questo davanti a cento persone? Ecco, la stessa cosa avviene nel Vangelo di Giovanni al capitolo sesto quando c'è questo segno che Gesù dà. E' interessante che è il tempo della Pasqua La Pasqua è la festa che ricorda la meraviglia di Dio la potenza di Dio che in una situazione disperata crea la vita salva, apre strade possibili per uscire da ogni angoscia Ecco, in questo Vangelo abbiamo questo sguardo di Gesù che abbiamo visto qualche domenica fa nella compassione di Gesù questo sguardo che è capace di vedere di accogliere la fame della moltitudine e chiede a Filippo dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare Ecco, questa è una storia dove la gente capirà semplicemente che c'è da mangiare per tutti ed è molto contenta e infatti si creeranno anche poi dei malintesi su questo punto ma chi vede il miracolo, chi vede il segno sono i discepoli i discepoli devono fare un'esperienza che è per così dire per tappe la prima è la tappa di porsi il problema ovvero sia Gesù dice dove potremmo trovare il pane per questa gente diceva così per metterlo alla prova dice il testo questo senso della prova la prova non è mettere in difficoltà per mettere in difficoltà no, è mettere in difficoltà per far crescere per dare una prova cioè per vivere un'esperienza di prova provata vivere un'esperienza di novità di salto di qualità ecco, quindi Filippo entra nella prova sperimentando, calcolando che non ha i mezzi per rispondere alla situazione quindi compare questo ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci ovvero sia il poco che hanno e questa frase che è la stessa del servo del profeta Eliseo che dice ma che cos'è questo per tanta gente ecco, non hanno risorse e ciò che hanno è assolutamente impresentabile e Gesù inizia a operare fateli sedere, non li mandate via fateli fermare dategli il posto, il luogo la situazione per cui possiamo operare con loro e quindi si mettono in questo posto che richiama la presenza dell'erba perché il Salmo dice il Signore è il mio pastore in prati di erba fresca mi fa riposare ecco, loro stanno riposando su questa erba e a condizione della provvidenza di Dio che è il vero pastore e Gesù prende questi cinque pani e due pesci e li fa diventare un'abbondanza allora che cosa dobbiamo tirare fuori da tutto questo discorso? che se uno vuole seguire la propria ragione non si troverà mai in queste situazioni che se uno vuole seguire la propria logica i propri calcoli Filippo ha fatto i calcoli e i calcoli escludono l'idea di affrontare il problema ecco, abbiamo due vite da vivere o resteremo sempre nello steccato tranquillo e garantito della nostra apertura alare della nostra capacità di giurisdizione oppure proviamo ad entrare nell'avventura l'avventura che è seguire il Signore Gesù e questa avventura è l'esperienza della sua potenza però è interessante notare una cosa Gesù non dà lui da mangiare si fa dare qualcosa dai discepoli e lo fa diventare tanto lo fa diventare abbastanza ma lui non può fare questo atto senza ricevere prima quel poco dai discepoli è interessante Gesù dà da mangiare a migliaia di persone ma non può farlo senza quel poco che i discepoli gli danno l'esperienza straordinaria che si fa solamente quando si esce dallo steccato della propria razionalità è quella di mettere il nostro poco nelle mani di Dio questa è una cosa che noi viviamo in realtà in ogni Eucaristia e questo segno è eminentemente eucaristico in ogni Eucaristia il pane si trasforma in Cristo e il vino si trasforma nel suo sangue per l'appunto ma il pane e il vino ce lo dobbiamo mettere noi è una cosa curiosissima avrebbe Dio la potenza per far apparire dei segni sulla mensa? sì ma non ci sarebbe più questa cosa importante per quanto poco i discepoli hanno visto i loro pani moltiplicarsi questi pesci sono diventati tanto ma non erano di Gesù erano dei discepoli Gesù lavora sulle nostre cose e qui c'è il segreto di una sinergia dove la potenza è tutta di Dio la straordinarietà è tutta di Dio ma la realtà parte da noi questo è un mistero grandioso e meraviglioso tutto ciò che noi facciamo in realtà come cristiani è sempre in questo ambito sarà tantissimo quello che fa Dio ma curiosamente non basterà mai ci vuole un pezzo nostro ci vuole una parte nostra e questo è meraviglioso perché questo vuol dire che le opere di Dio sono opere che si fanno insieme con Dio non sono solo sue sono anche nostre in una maniera assolutamente infinitesimale se vogliamo ma comunque necessaria sì, questa è la nostra dignità alla fin fine è Cristo che ha sfammato questa gente ma sono anche i discepoli che hanno sfamato questa gente in altri testi si parla di questo date voi stessi da mangiare che vuol dire tante cose ma comunque l'amore di Dio arriva per mezzo di mani di uomini e per mezzo di mani di questi discepoli che sanno perfettamente di non poter fare questo miracolo ecco apriamoci alle opere di Dio che passano per le nostre cose non sono altrove dalla nostra vita sono nella nostra vita con ciò che abbiamo nella bisaccia con ciò che stiamo vivendo non pensiamo che la volontà di Dio sia una cosa da trovare fuori altrove no la volontà di Dio è dentro la nostra vita è per mezzo delle nostre povere cose fare l'esperienza della Pasqua non si fa in una forma estraniante alienante ma realizzante attualizzante concretizzante se vogliamo cioè che ci cala nell'oggi nella realtà ed è qui che vediamo Dio lavorare sono i nostri pani quelli che Dio moltiplica quello che veramente fa la differenza è se questi pani li diamo o non li diamo a Dio se continuiamo a gestirli secondo la razionalità e allora vedremo solamente cose piccole e mediocre o se entriamo nello straordinario fidandoci avete ascoltato il commento al Vangelo di questa domenica offerto da Don Fabio Rosini posso oh non poco o i and di n ti Grazie a tutti